Risorse pubbliche e private per far rinascere l'ospedale di Atesta dall'aprile del 2020 in piena pandemia quando si parlò di ospedale Covid ad Atesta fino ad arrivare ad oggi, con l'inaugurazione del pronto soccorso e del reparto endoscopia. Tanti sono stati gli interventi per un importo di oltre 3 milioni di euro ed in previsione ce ne sono altri 6. Presidente, torna qui dopo due anni una situazione totalmente cambiata ed anche due tagli del nastro. Impegni mantenuti, come detto, non facciamo chiacchiere, realizziamo fatti concreti. Due anni fa siamo venuti raccontando e spiegando quale sarebbe stato il progetto e quali sarebbero stati gli investimenti e le intenzioni su Atesta. Credo che il lavoro di questi due anni portato avanti dalla nostra amministrazione, dal direttore Shell, con l'assessore Veria e tutto il resto della squadra, abbia dimostrato che avevamo ragione, abbiamo avuto ragione a utilizzare Atesta per ricoverare e curare centinaia di persone affitte dal Covid. Quell'esperienza e il patrimonio anche di investimenti, di ristrutturazioni fatte per rendere l'ospedale compatibile con la cura del Covid, ci abbia lasciato in eredità un ospedale davvero nuovo, non si tratta solo delle insegne che cadevano a pezzi e che raccontavano di un ospedale semiabbandonato al suo destino e che oggi invece ha un altro volto, ma di impianti, attrezzature, reparti, ritorno anche delle attività che si sono dovute temporaneamente allontanare per le note ragioni e questo per il futuro di Atesta e di tutto il comprensorio rappresenta una pagina di svolta molto importante. Assessore alla Sanità Nicoletta Veria, lei ha ricordato le vittime del Covid in questa giornata, qui si tratta di 3 milioni di investimenti, una parte di questi 3 milioni dovute alle donazioni. Sì, è vero, è un momento importante, si inaugura una grande realtà delle apparecchiature importanti finalizzate a quella che è la diagnostica, ma soprattutto oggi emerge un elemento innovativo che è l'integrazione tra l'ospedale e il territorio. Non solo viene presentata la riorganizzazione di questo presidio che era completamente abbandonato, ma soprattutto viene presentato un elemento importante che è l'identità della casa, della comunità presso questo comune, questa città. Assessore Nicola Campitelli, significa potenziare tutta la sanità nella zona del Sangrina e non solo? Assolutamente sì, è la zona industriale più grande del centro-sud Italia, quindi un presidio ospedaliero importante che finalmente può dare risposte a un territorio intero. Sindaco Giulio Borrelli, dunque un nuovo pronto soccorso, ma anche qualcos'altro in arrivo per l'ospedale? Sì, sicuramente ci sono stati degli investimenti importanti dovuti soprattutto anche alle donazioni private di cui abbiamo beneficiato in epoca Covid da parte di costruttori, ma anche dalla generosità di tanti donatori privati che hanno permesso appunto questa ristrutturazione e questi nuovi locali. Oggi si inaugura l'endoscopia, però dobbiamo sapere, ci sarà a breve, nei prossimi mesi, anche l'apertura della medicina del territorio, della casa di comunità, dell'ospedale di comunità, tutto questo va bene, però dobbiamo sapere che Atessa attende il completamento anche del percorso di ospedale al servizio di aria disagiata che deve essere completato perché in questa grande e importante struttura a Tessana possono e devono convivere la struttura territoriale, l'ospedale di comunità, con la struttura ospedalera vera e propria, con il presidio San Camillo dell'Enlis che al servizio di aria disagiata è l'una cosa, non è esaustiva dell'altra, non è alternativa all'altra.